Siamo qui a Cremlino, al teatro, adesso facciamo la strada per arrivare al stage, al nostro palco, quindi bocca al lupo a tutti, ciao! Siamo qui! Siamo qui al famoso caffè degli artisti nel teatro del Cremlino, ci sono delle buone, buonissime torte, un buon caffè e tra un po' e poi dopo torneremo sul palco. Ciao! Grazie! 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 Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie! Grazie! Grazie!